Mi sono recato a Borgotaro in incontro tra sindaci del distretto sociosanitario e le associazioni del volontariato insieme al consigliere regionale Cardinali Alessandro. Il punto in discussione era le nascite presso l'ospedale di Borgotaro. Come tutti sanno il Ministero della Sanità vuole chiudere questi punti nascite che non raggiungono un numero definito ottimale. Abbiamo approntato una strategia dove tutti i sindaci, le associazioni del volontariato e il consigliere regionale sono impegnati, concordando una linea anche con altri ospedali di montagna, per mantenere questo essenziale servizio che tutti i sindaci ovviamente vogliono mantenere, visto l'importanza per tutta la popolazione montana dell'ospedale di Borgotaro. Io ho colto l'occasione e sono sembrato un UFO non solo per sostenere questa linea concordata e mi fa piacere di averla concordata insieme a tutti e insieme alle associazioni per raggiungere l'obiettivo che il punto nascite nell'ospedale di Borgotaro rimanga ma ho anche fatto presente che i sindaci debbono svolgere un ruolo politico quindi dobbiamo ritornare a parlare di politica e svolgere come sindaci un ruolo politico perché altrimenti non riusciremo a salvare i servizi che sono in montagna che sono già carenti.